Allora, io le dico solamente questo, mi dico anzi, lasciateci lavorare due o tre mesi tranquilli, non disturbiamo nessuno, saremo sempre educati, saremo sempre rispettosi di fronte a tutti e vogliamo solamente dimostrare le nostre piccolissime capacità, questa è la verità. Tutto qua, saremo onesti nei vostri confronti, sia a livello di giornalisti, tifosi e tutto, noi non vogliamo né essere benedetti né maledetti, vogliamo solamente lavorare bene. Vi chiediamo questo, se è possibile noi siamo qui, siamo stati vicini, abbiamo fatto dei gesti comunque importanti verso questa società, credo, perlomeno fino ad oggi si siamo comportati molto bene. Quindi fateci lavorare due o tre mesi, dateci un po' di tempo.